La diversità è ricchezza, quindi sicuramente il valore terapeutico è stato soprattutto nella presa di coscienza che comunque la diversità non è un problema, può essere un concesso è un problema non perché è colpa dei bambini ma della società, quindi loro stanno tutti ascolti, non rispettavolosi e capiti, capiti quello che è la loro lavoro.